Il colcio di punizione di Paolo Ramara che non vorremmo ci faccia qualche scherzetto oggi l'ex della Vigor. E lui sulla palla col destro verso la porta, sfiora l'incrocio dei pali. Paolo Ramara ci ha provato a darci una brutta delusione, ma è giusto perché adesso è passato in un'altra squadra.